Buongiorno a tutti, anziché dire good morning Milano, come va tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Buongiorno caro Lorenzo Masieri, buongiorno Fabio e buongiorno ai radioascoltatori. Eh sì, in diretta qui su Crystal Radio 96.2 FM, Dab Plus, app per iOS, Android, sito internet crystalradio.it, ma anche, se ci volete vedere, sul sito di Milano All News. Io sono quello che sta salutando con le manine in questo momento. E io l'altro, non sono un cartonato. Perché ci sta guardando appunto su milanoallnews.it. Ho un po' di raspino in gola questa mattina, vuol dire che è arrivato l'autunno. Oh mamma, cominciamo, non è già in anticipo di tre giorni, inizia il 20 settembre. Sì, quello che è il soluto, no, sì, sì, certo, certo. Però considerate le previsioni del meteo per oggi, ma ne parleremo, oggi dovrebbe venire giù di tutto nel primo pomeriggio, Fabio. Sei informato su questo? Oh mamma, anzi no, e dobbiamo, anzi, richieste che sono arrivate proprio ufficialmente dagli alti piani, sia della radio, ma soprattutto di voi, i nostri padroni della mattina, gli ascoltatori di Crystal Radio, gli ascoltatori di Good Money Milano, che ci chiedono di dare le previsioni del tempo in apertura. Così sanno cosa mettersi quando devono uscire. A saperlo lo faremo pure anche noi. Quindi today, strategia della cipolla? Oggi, ma più che strategia della cipolla, più che altro il problema è muoversi, perché alle due dovrebbe venire giù veramente tanta 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 acqua. E c'è anche lo sciopero dei mezzi. C'è lo sciopero dei mezzi, però poi il sole. Va bene. Ne parliamo fra poco, adesso è tempo di Olli, tutto con te, qui su Crystal Radio. Buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno Lorenzo. Questo non sto dicendo noi due, sto leggendo un WhatsApp che è arrivato in questo momento al 3317853555 e dice si apre subito in salita la nuova settimana tra sciopero ATM e avverse E infatti ricordiamo subito in apertura Fabio, ricordiamo che oggi c'è lo sciopero ATM lunedì 18 settembre dalle fasce interessate 84515 e dalle 18 in poi. Le sigle sindacali sono CUB, SGB, COBAS, ADL COBAS e FISA CONFIL, si dice così. Le conosci tutte? Assolutamente no. Ok, quindi ripetitoliamo, i mezzi ci sono dal? I mezzi ci sono prima delle 8 e 45 e tra le 15 e le 18. Tra le 15 e le 18? Sì, possibili cancellazioni e ritardi invece nelle fasce interessate. Benissimo, insomma, così si può dire benissimo. Dopodiché io amo il nostro pubblico. Cosa è successo? E allora al 3317853555 caro mio Masieri è arrivato il Whatsapp di Adriana che ha riaperto una delle mie tradizioni della scorsa stagione. Ossia? Ossia facciamo la colazione insieme. E quindi buona colazione con voi e una bellissima foto della colazione di Adriana che questa mattina è anche floreale e sai perché? Perché? Perché è il suo compleanno! Tanti auguri ad Adriana! Tanti auguri ad Adriana! Ma anche voi se volete condividere la vostra colazione con noi mandateci la foto della vostra colazione fateci morire di fame perché io ho una fame pazzesca già a quest'ora al 3317853555 potete condividere e poi vabbè poi sapete la facciamo tutta la facciamo tutta se volete potete mandarci anche i fondi del caffè perché io senza saperne nulla vi leggerò il vostro destino nel fondo del caffè senza avere nessuna pregressa conoscenza che praticamente chiunque faccia quello il mestiere lì ha. Ma perché c'è qualcuno che legge i fondi del caffè? A New Orleans si fa A New Orleans si fa E anche qua a New Orleans di Milano Comunque allora sciopero dei mezzi il meteo no schifo oggi vestitevi a cipolla perché poi in realtà pioverà ma molto probabilmente poi smetterà e poi dopo ricomincerà e quando smetterà farà un caldo pazzesco come tutte le volte che piove però attenzione perché in realtà leggevo già ieri che si dice, così dicono nel tempo che nell'arco di due o tre giorni entro la metà della settimana dovremmo scendere di 10-11 gradi io ho portato in cantina ieri sera il ventilatore ah vedi, quindi è finita l'estate è finita l'estate già quello è un segnale io ieri sera avevo la felpina addosso però proprio su dato fradice io vi racconterò ieri sera dove ero lo dico così alla sagra della patata di Vimercate è roba seria è roba che scotta è roba che scotta allora a proposito di roba che scotta il traffico sarà bollente quest'oggi in città tra sciopero e meteo e allora ci colleghiamo subito con la redazione di Luce Verde per sapere appunto la situazione del traffico in diretta in questo momento sulla città di Milano Luce Verde 7-17 minuti sentiamo che sono bene 7-17 minuti sono abbastanza bene io non riuscirei a dirlo 7-17 7-17 entrano in Trento tutti i 7-17 tutti i Rallando Milano News Crystal Radio queste le coordinate per sentirci o vederci e cosa ci stavi raccontando del tuo weekend che è andato sei andato dove? alla sagra della patata che poi non è di Vimercate ma è di una frazione di Vimercate che mi pare si chiami Oneto Oneto potrebbe essere possibile questi hanno fatto il genio del marketing comunque e cosa si mangia? patate e basta? no in realtà no ah ok a parte un po' di purè e delle patatine fritte buone non diciamo commerciali per il resto passatemi i termini c'è poca c'è poca patata e beh oggettivamente sì però è organizzata molto molto bene sai che io sono sì 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 io sono fissato con le fiere di paese festival eccetera e con la buona organizzazione con la buona organizzazione è organizzato benissimo ci sono stand ovunque si disloca in tutta la frazione tribute band tre palchi molto molto bello è finita quest'anno venerdì sabato e domenica scorso venerdì sabato e domenica questo a sto punto vi invito ad andarla a vedere l'anno prossimo hai capito ma cos'è il glass tomboy oppure il burning man che cos'è ma niente in confronto il coacella cos'è il coacella no la saga della patata di Oneto è come no è di V-mercate non ho trovato Oneto V-mercate comunque di V-mercate di V-mercate a proposito di buona organizzazione sentite il bordello che è successo con il concerto di Negra Amaro giù in Salento sì 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 al campo volo in Salento eh cioè se c'eri tu succedeva un casino no vabbè dai anche qualche volta qua fuori senza andare infine in Salento anche qualche volta qua fuori ci sono dei problemi eh sì sì anzi ne abbiamo parlato giovedì credo giovedì con Silvia Fossati presidente municipio 7 7 e 23 minuti centro di gravità permanente e subito si torna veramente ai grandi momenti della musica come ad esempio che cosa devo dire non lo so così volevo sono quelle frasi di attraimento che faccio infatti non so cosa dire Woodstock bravo 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 perché tanto qualsiasi risposta è buona visto che sei attraimento la domanda allora 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 andiamo ancora qualche minuto prima della nostra pausa della mezz'ora sapete ogni mezz'ora noi ci salutiamo per una piccola pausa in cui ascoltiamo due canzoni qualche consiglio per l'acquisto e poi torniamo da voi quest'oggi avremo un ospite giusto quest'oggi avremo l'assessore ai servizi civici del comune di Milano Gaglia Romani che ci racconterà qualche iniziativa appunto a favore dei cittadini della popolazione della semplificazione esatto prima fra tutti il fatto che appunto a partire dalla seconda metà di settembre 14 tipologie di certificati potranno essere richiesti anche nelle biblioteche rionali quindi accelerando un po' le procedure comodo comodo poi avremo anche l'inizio di una rubrica importante che tutti lunedì inizia il lavoro inizia la scuola inizia un po' tutto e quindi buon lavoro buon lavoro con Filippo Poletti quindi più tardi avremo appunto anche questo contributo che tutti lunedì ci manderà Filippo per parlare un po' appunto di lavoro ovviamente tema fondamentale la ripartenza anche perché oggi è veramente il lunedì dove tutti siamo ripartiti ormai anche nelle università oggi perché oggi anche le università ripartono alcune però comunque le scuole ormai sono tutte ripartite quindi insomma questo qui proprio il lunedì è un po' Blue Monday in un certo senso ma di solito è quello del secondo dicono che è il Blue Monday perché il primo c'è l'adrenalina dell'inizio poi dopo credo che sia il prossimo quello triste anche se il Blue Monday vero mi sembra che sia appunto da gennaio da quelle parti là e penso che ho scoperto che c'era stato tutto uno studio dietro al Blue Monday perché è il lunedì più lontano dalle feste passando perché sì no tutto un io pensavo un lunedì a caso oggi sono triste inventiamo il Blue Monday e invece no come dicevo appunto siamo arrivati alla mezz'ora e quindi eccoci qua fra poco ci riascoltiamo sempre qui ci ritroviamo sempre qui su Crystal Radio ma adesso una piccola pausa due canzoni e poi siamo di nuovo qui con voi Crystal Radio e allora 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 7.32 minuti di nuovo in diretta Crystal Radio di nuovo qui per darvi un po' le notizie principali che ci sono in giro sui vari quotidiani milanesi ricordiamo che però c'è lo sciopero dei mezzi quindi diamo prima precedenza c'è lo sciopero dei mezzi fasce garantite tra le prima delle 8.45 quindi abbiamo ancora un'oretta e qualcosa per andare a lavoro andare a scuola eccetera e poi ci sarà appunto un'agitazione tra le 8.45 e le 15 e poi dopo le ore 18 18 fine servizio quindi quest'oggi si torna a casa prima del lavoro bisogna anche vedere quante adesioni ci saranno infatti in realtà sul sito TM nella pagina degli scioperi c'è scritto quanto i vecchi scioperi hanno e non erano altissimi effettivamente le ultime le ultime volte l'adesione anche perché adesso siamo ripartiti estate senza scioperi o meglio più o meno ripartiamo e poi in media uno sciopero al mese se non una volta anche di più si se non sbaglio appunto chiedono di essere convocati dal ministero dei trasporti Matteo Salvini e nel caso si garantiranno esatto la come si dice beh io non lo so io non lo so perché nel senso qua ogni mese uno sciopero diverso ho perso il conto di quante cose stanno chiedendo e del perché soprattutto poi anche delle diverse sindacate non lo so non lo so cari sindacati se qualcuno di voi è in ascolto 331-78-53-555 spiegatecelo un po' perché facciamo veramente fatica nonostante sia solidale sempre con i lavoratori quando un lavoratore sceglie di fare sciopero insomma sceglie anche di decurtarsi un tocco di stipendio quindi insomma ci sta che deve essere una cosa di importante però come dire ultimamente i cittadini hanno un po' perso la solidarietà ahimè verso certe categorie sarebbe interessante capire appunto perché queste categorie continuano a scioperare e magari farlo capire ai cittadini che invece magari possono essere anche di buoni alleati a volte invece qui sembra quasi un po' uno scontro di parte che invece non fa bene praticamente a nessuno vogliamo andare a vedere un po' la situazione del traffico vogliamo capire un po' com'è c'è Luce Verde che bussa la porta quindi possiamo apriamole e colleghiamoci appunto con la redazione di Luce Verde per sapere la situazione del traffico in città in questo momento Luce Verde Acquamarina Anamena insieme a Guè serve questa canzone un po' estiva perché in questo istante arriva una notizia che inizia a piovigginare sulla città di Milano e quindi sta arrivando sta arrivando l'autunno Eh vabbè è normale Eh sì sì no anzi meno male forse insomma l'anno scorso non era proprio così ben definita la stagione quindi va bene allora andiamo avanti lo sapete Milano All News Crystal Radio fanno producono no in un amplesso di notizie e di troppo poetiche no vabbè comunque vi regalano Goodball in Milano tutte le mattine che vi dà le notizie di città e dai giornali locali dei quotidiani come ad esempio chiaramente tutte le testate online dei vari giornali locali titolano il danno la notizia della morte dell'ennesima vittima in strada vittima della strada ancora vittima della strada anche in questo caso un pedone che è stato investito travolto da un autista che non si è fermato da un autista non da un'auto ricordiamo cominciamo a dire le cose giuste che non si è fermato a soccorrerlo poco fuori la discoteca in zona viale Jenner quindi fuori dalla discoteca dell'Alcatraz che con alcuni amici appunto stava attraversando la strada alle prime luci dell'alba l'autista di 30 anni si è costituito dai carabinieri e dovrà rispondere di omicidio stradale dice l'Ansa Milano poi poi cos'altro c'è intanto ricordiamo che avete ancora un'oretta buona per prendere i mezzi pubblici dopodiché 8.45 ve li scordate fino alle 15 poi ricordiamo che nel corso del weekend come un tuo whatsapp mi ha fatto notare Milano sappiamo che da diversi giorni sono ritornate le tende davanti al Politecnico per far sentire la voce degli studenti in riferimento al caro affitti ed è stato occupato l'ex cinema splendor per sostanzialmente viene detto l'obiettivo è quello di far sapere che gli spazi da riconvertire ad uso della comunità esistono esistono e sono tanti e poi appunto c'era lo slogan anche non abbiamo un tetto allora ce lo prendiamo c'è anche questa idea infatti in realtà questa è più un'occupazione simbolica cioè non c'era l'idea appunto di andarci a vivere realmente quanto appunto di far notare quanti spazi vuoti esistono a Milano che possono essere riconvertiti infatti sia abitativi cioè quindi case popolari spitte case popolari sottosoglia anzi domani parleremo un po' di questo con il nostro ospite Walter Cherubini parleremo un po' di questo di come si potrebbe convertire una buona parte delle case Aler e MM che al momento non possono essere date perché sono cosiddette sottosoglie cioè per una famiglia non vanno bene ma come si potrebbero unire dei sottosogli e creare una sorta di Airbnb per studenti studentato per studenti in modo da fare tante piccole casette dove però gli studenti possano operare anche magari per la comunità che le accoglie che potrebbe essere un'idea le tende appunto adesso sono spostate all'interno dello Splendor e quindi fanno capire come invece ci sono anche altri spazi non nati per la residenza che però potrebbero benissimo essere convertiti e sarebbe anche di buon auspicio visto che Milano tende ad essere una città universitaria che come dico al momento non è ancora per università è una città universitaria ma non per università è la città universitaria numero uno in Italia per numero di studenti per numero di facoltà soprattutto questo che è sconvolgente perché Perugia è famosissima ma ha poche facoltà e tanti studenti in confronto alla popolazione ma poi qui si perdono gli studenti all'interno della grande popolazione di Milano però non hanno veramente i servizi e quindi seguiremo da molto da vicino questa notizia come seguiamo da vicino la musica qui su Crystal Radio alle 7.43 minuti 7.47 minuti Crystal Radio e noi siamo sempre sulle notizie però no? Noi siamo sempre sulle notizie e ricordiamo ancora una volta lo sciopero dei mezzi che interesserà appunto ATM e non solo quasi un'ora quasi un'ora anzi meno di un'ora adesso non dobbiamo fare il countdown vi metto un'ansia vi metto adesso dovete correre fuori casa ogni mattina un milanese si alza e deve correre per arrivare alla fermata prima che inizi lo sciopero eh sì eh sì e niente quindi lunedì di ripartenza diciamo un po' munco un po' un po' zoppicante zoppicante invece domani deve andare tutto domani deve andare tutto liscio perché cosa succede domani a mezzogiorno? perché domani a mezzogiorno ET Alert arriva anche a Lombardia dopo i test nelle varie regioni pochi giorni fa era in Piemonte cosa è ET Alert è semplicemente un servizio eh che verrà introdotto grazie al quale ci sarà un test ehm grazie al quale appunto domani ci sarà un test a mezzogiorno arriverà una notifica su tutti i nostri dispositivi e potrà essere utilizzato la protezione civile in futuro per eventuali emergenze noi cosa abbiamo fatto? arriva il messaggio con annunciazione annunciazione come l'Ello Arena no non è così no viene fuori test quindi non vi spaventate noi abbiamo provato a sentire un presunto ufficio della regione Lombardia per cercare di contattare un presunto presidente Fontana sentiamo cosa è successo va bene sentiamo com'è andato allora aspetto a un'ate tasse 3 a quelle gas con la regione Lombardia you waiting to be connected tu regione Lombardia aspetto a un'ate tasse 3 a quelle gas con la regione Lombardia pronto? pronto? no questa voce la riconosco la riconosco Balduccio è lei? io sì e tu chi mi chiamò? Masieri Masieri buongiorno anche a lei Balduccio sono Masieri il giornalista di Good Morning Milano si ricorda? mi ha chiamato Masini no senti Masini che me la canti quella della Terra Promessa no allora innanzitutto sono Masieri secondo Terra Promessa di Ramazzotti non è neanche di Masini se proprio stiamo a guardare però mi ha chiamato un po' ci si è arrivato sei di Ramazzotti è di Ramazzotti sei di Masini è di Masini comunque Balduccio vorremmo parlare con il presidente Fontana di quello che succederà domani intorno alle 12 sa? ah Masini voglio parlare del pranzo quello pasta, patate e coce quello di domani è mezzo giorno eh si 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 no no Balduccio parlavo dell'IT alert il messaggio che arriverà tutti domani alle 12 conosce? un messaggio un messaggio sul presidente? ma no della protezione civile l'allerta il sistema di allerta nazionale presidente ma che mi chiesto fare un messaggino a che dica ti ho scritto a che devo rispondere a qualcuno che dobbiamo fare? scusi Balduccio mi pare evidente che lei non è al corrente di questa iniziativa ma come 5 euro ma che ricarica Balduccio ma siete pronti o no? ma il presidente è marato pronto il presidente è il simbolismo del pronto intervenuto perché lui è già intervenuto prima è già pronto da prima capisce? Balduccio in realtà no ma proveremo nei prossimi giorni a richiamare per parlare con il presidente non con lei con il presidente va bene? certo Masieri sempre per sentirla il presidente è sempre molto impegnato però come lei sa io posso fare delle veci e le vesti senza problemi sarebbe Masieri comunque qualche problema io lo vedo welcome to KTWBC this is Christmas 1983 non so perché ma mi ricordo ma perché mi fa Natale subito sta canzone che non è di Natale I just called Love You ci sono canzoni che fanno un momento storico mi fa Natale mi fa però quanto è grande Stevie Wonder a tutti consiglio di andare a vedere la puntata di Carl Pool con Stevie Wonder che inizia guidando lui cioè qualcosa di e quando si mette a parlare con la moglie con l'iPhone in mano cioè veramente alto alto livello di comicità vorrei che recupererò si recupera è lunedì è lunedì buon lavoro buon lavoro inizia oggi la rubrica con Filippo Poletti Top Voice di LinkedIn che con un contributo video ci spiega qualche iniziativa della settimana passata o della settimana appena iniziata che ha a che fare con il mondo del lavoro a te Filippo buon lavoro a tutti con questa nostra nuova rubrica anzi la vostra nuova rubrica sì perché settimanalmente così come faccio su LinkedIn con l'hashtag RassegnaLavoriT racconteremo ciò che di positivo accade sul territorio milanese siamo quelli del mezzo pieno perché intorno a noi anche a Milano c'è tanto di buono e di bello che accade anche nel lavoro la prima parola chiave di questa settimana è ripartenza settembre è il mese della ripresa della scuola dopo le vacanze il lavoro dei nostri figli e dei ragazzi ma è anche la ripartenza del lavoro dopo i mesi caldi forse forse dovremmo far iniziare il calendario da settembre più che da gennaio che ne dite e a proposito di scuola bella l'iniziativa dei Lions zaino sospeso promuove il diritto allo studio al fianco delle famiglie in difficoltà con il caro scuola pensiamo all'aumento dei prezzi o della cancelleria la seconda parola chiave è libertà Prismian gruppa azienda vinalese di cavi ha previsto 90 giorni di congelo facoltativo per le mamme retribuito al 100% ovviamente in aggiunta ai 5 mesi di maternità obbligatoria pagata al 100% insomma diventare mamme o diventare papà è e deve essere una libera scelta mai un ostacolo alla carriera e finiamo con la terza parola chiave innovazione arriva dal Giappone il parcheggio per biciclette sotterraneo è attivo alla stazione di Chioto prendi in pochi secondi la bicicletta lasciata il giorno prima nel parcheggio sotterraneo e pedali fino al lavoro addio ai parcheggi disordinati per le vie della città nel 2026 ci saranno le olimpiadi di Milano e Cortina e allora allora perché non diffondere fin da ora la mobilità dolce con il parcheggio per biciclette sotterraneo buon lavoro a tutti ma tu hai capito cosa è la disco paradise no Fabio ti posso dire non me ne frega niente saperlo non me ne frega niente saperlo non ne posso più no sono cattivissimo 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 alle 8 e 18 del mattino una cattiviera mi hai vista neanche pensa dopo ma non ti ho mai visto così cattivo dopo lanci le bombe a mano scusa Lorenzo cos'è la disco paradise non te lo ripeto non pensavo non pensavo di svegliare ma no perché non si basta adesso io parlo con l'ufficio programmazione e allora il 21 settembre basta finisce l'estate basta cancelliamo dal database queste canzoni basta non ne possiamo più basta Michael Bublé prima c'è la Stevie Wonder che ci ha già messo in tema notizie notizie su Milano velocissima dopo aver ringraziato chiaramente Filippo Poletti che ritroveremo lunedì prossimo sono 96 le fontane di Milano sottoposte a manutenzione lo scorso luglio è stato assegnato un importante appalto per la manutenzione appunto delle fontane si procede anche soprattutto per alcune che sono fortemente danneggiate come quella in piazza di Cadorna e di fianco alla stazione di Garibaldi 96 sono tante 96 fontane se ci penso a mio modo non me ne vengono così tante piccolo consiglio per gli acquisti che non è per gli acquisti perché è completamente gratuito c'è un'app che si chiama Fontanelle d'Italia che è fondamentale per trovare le fontanelle quando sei in giro tutte anche le vedovelle tutte anche in montagna mi ha salvato la vita questa è un'app che salva la vita un'app salva vita se lo sai che sei lì sulla circonvalazione che non sei thirsty come diceva la circonvalazione come diceva il nostro Paul Pablo sei in giro che non sai come fare a bere e tacca te ma c'è anche credo poi dopo lo chiederemo dopo al nostro ospite ma credo che ci sia anche una mappa di MM quella che gestisce l'acqua potabile a Milano con tutte segnate tutte le fontanelle di Milano i draghi verdi in giro per la città tra parte ne giravo una coppia qui in redazione potremmo anche poi se la troviamo la recuperiamo la pubblichiamo ebbene bene sì città che quindi capiamo che ha più di 96 fontane questa cosa mi stupisce ma sono ben contento le fontane sono sempre molto belle da vedere il problema è che sono sempre difficili da mantenere effettivamente difficili da mantenere si spacca in un attimo vengono trattate male appena da fare un po' dire c'è la gente che si lancia dentro a far bagno perché pensano tutti di essere Marcello come here quindi tutti così e allora effettivamente non è semplicissimo garolenti sono scene inguardabili d'estate diciamocelo cioè cose tranquillamente che neanche nel film di Garrone quello reality quello che neanche lì si vedevano scene che neanche lì si vedevano ma invece lo sapete bene c'è una città che è in subbuglio questa mattina perché sciopero dei mezzi meteo e quant'altro ci colleghiamo subito con Luce Verde per capire appunto la situazione del traffico in diretta in questo istante sulla nostra città 8 e 31 minuti siamo di nuovo qui in diretta lunedì 18 settembre è inizio no un quarto d'ora all'inizio lo sciopero dei mezzi ormai ce l'ho questa cosa Lorenzo ormai l'ansia l'ansia vi faccio venire ho fatto tutta la puntata su quello correte fuori di casa prima che inizi lo sciopero dei mezzi ma 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 la vedete già chi è collegato con Milano News già lo vede qui di fianco a noi il nostro ospite di giornata l'assessore ai servizi civici ha tante altre cose sono lunghissime partecipazioni si no non finiscono più infatti io riduco i minimi termini Gaia Romani buongiorno buongiorno Fabio buongiorno a tutti gli ascoltatori di Milano News e allora Gaia ti abbiamo invitato perché insomma ci piace sempre avere un po' un dialogo con l'amministrazione ma anche perché fra qualche giorno partirà una iniziativa interessante no Lorenzo quale? si è presente un'iniziativa che prevede il fatto che 14 tipologie di certificati si potranno richiedere anche nelle biblioteche dei singoli municipi è articolato in due fasi se non sbaglio e appunto cerchiamo di capire di più si allora da tempo anagrafi e biblioteche collaborano abbiamo iniziato questa collaborazione ospitando le biblioteche dentro alle anagrafi in occasione di alcune giornate particolarmente significative come per esempio il 25 novembre che è la giornata contro la violenza sulle donne abbiamo ospitato le operatrici dei centri antiviolenza con degli stand delle biblioteche con delle letture sul tema che potessero anche sensibilizzare le tante cittadine e i cittadini che venivano da noi e abbiamo cercato di capire ma perché non possiamo fare anche l'inverso quindi non solo la biblioteca in anagrafe ma anche l'anagrafe in biblioteca e così abbiamo iniziato installando delle postazioni in una biblioteca per municipio ma la cosa bella di questo progetto è che non ci saranno solo delle postazioni in cui scaricare i certificati ma ci saranno dei facilitatori digitali che in diverse ore della settimana aiuteranno le persone che hanno un divario digitale una difficoltà a scaricare il certificato nel farlo quindi andiamo incontro sia a chi non ha la stampante a casa banalmente o un pc ma anche chi pur avendoceli non saprebbe come fare per prodursi un certificato in questo modo riduciamo il divario digitale rendiamo più autonomi i cittadini e alleggeriamo anche il carico agli sportelli e questo è fondamentale perché effettivamente la digitalizzazione è una grande cosa ma a volte taglia fuori una fetta di popolazione e non dico solo anziani perché assolutamente no perché per vari motivi magari non hai la possibilità di avere quel device digitale che funzioni che abbia la stampante che si possa collegare che abbia l'imponta digitale se bisogna di altre cose o c'è ancora chi preferisce il metodo tradizionale oppure semplicemente vedi le code quando si va a fare il bigliatto per il cinema per esempio quelle situazioni quindi è molto interessante che questo appunto del facilitatore digitale complimenti complimenti l'idea comunque quella anche di mischiare un po' i luoghi del comune in modo da far nascere un po' facci sentire anche la presenza del comune un po' ovunque mi viene da dire assolutamente ma in realtà rispetto a quello che dicevate prima io incontro sempre più spesso cittadini che mi dicono che non hanno il cellulare l'altro giorno ne ho incontrato uno a Piola mi ha chiesto come avere delle informazioni io gli ho detto guardi ci pensiamo noi mi dia una sua mail così poi gliele posso far avere no io non ho la mail mi ha dato l'indirizzo di casa non mi era mai successo fantastico fantastico però sì l'obiettivo è proprio quello di cercare di far sentire il cittadino diciamo sempre supportato dall'amministrazione e poi è anche un modo per le biblioteche per andare avanti con gli obiettivi che si sono posti ricordiamo che l'anno scorso il comune di Milano ha siglato un nuovo patto per le biblioteche e che fa parte della carta delle biblioteche di cui fanno parte tantissimi comuni italiani che si pongono degli obiettivi e uno di questi obiettivi è proprio quello di migliorare i servizi digitali e cercare di essere un punto di riferimento cosiddetto multifunzionale quindi non essere solo un luogo di informazione ma essere sempre di più anche un luogo di supporto concreto alle persone ma è questo che deve fare forse proprio l'assessorato ai servizi civici che noi oggi chiamavamo anche un po' l'assessorato della semplificazione perché tu devi un po' so che insomma i predecessori che hanno avuto un ministero del genere non erano proprio dei grandi geni quindi attenzione ad accostarsi a certa gente però beh non è neanche il grande precedente quindi puoi fare sicuramente meglio di altri qualsiasi cosa in più è un passo in più però beh la semplificazione è fondamentale per voi assolutamente guarda io devo dire che ne ho fatto un po' il mio cavallo di battaglia pur non volendo intanto perché semplificare sembra una cosa banale ma non costa quindi quando tu togli qualcosa tendenzialmente riesci a rendere felici le persone o le associazioni come per esempio quando abbiamo portato avanti l'iniziativa per semplificare la possibilità delle associazioni di occupare il suolo pubblico dopo ne parliamo non pensai che ci scappi e quindi devo dire che è un ottimo modo per fare anche appunto sentire alle persone che la loro quotidianità migliora senza dover per forza ricorrere a ingenti risorse per l'amministrazione quindi è abbastanza divertente per un amministratore locale e poi aggiungo un'osservazione velocissima secondo me va a ridurre anche quella distanza tra amministrazione e cittadino alcune volte è l'alibi per il cittadino per disinteressarsi fondamentale fondamentale Coraline 8 e 41 minuti Maneskin qui aveva i capelli lunghi o ce l'aveva già corti no ce l'aveva ancora lunghi sono divisi in due i Maneskin prima Damiano ha i capelli lunghi e ne ha i capelli corti ma pre pre capelli post capelli sì sì così e allora una grande fan dei Maneskin mi ha scoperto è l'assessore Gaia Romani è così Milano ha avuto insomma quest'estate è un momento abbastanza complicato la notte tra il 24 e il 25 luglio si è scatenato il pandemonio io non c'ero quindi per fortuna ho sentito da voi io c'ero e infatti ho sentito da voi pensa che anzi mi sono accorto che succeda qualcosa perché tutti sanno che ho fatto questo viaggio dall'altra parte del mondo ero in Giappone per noi la giorno per ora le 4 di notte la gente mi rispondeva i messaggi dicevo oddio è successo qualcosa e infatti è successo di tutto io ricordo perfettamente sono entrato su Twitter ho visto tipo Nicola Savino tutta quella gente lì di Milano che scriveva se sei a Milano in questo momento non stai dormendo eravamo tutti tutti svegli infatti tutti svegli tutti sul nostro fuso orario che eravamo appunto a 8 ore più avanti però Milano ha risposto alla grande perché cosa è successo? passiamo da un'iniziativa che appunto deve iniziare a una che è appena terminata perché ieri è terminata insieme per il Verde che era un'iniziativa appunto per ripulire le zone da appunto il nubifragio che abbiamo appena citato è appena finita e com'è andata? ma allora è stato direi un grande successo e un'esperienza bellissima noi come amministrazione abbiamo voluto mettere a disposizione delle persone un modo per essere comunque partecipi di un momento sicuramente difficile ma in cui si può anche creare rete solidarietà supporto e è davvero comunanza questo è quello che vediamo ogni volta in cui Milano affronta momenti difficili pensiamo a quante persone si sono messe a disposizione durante la pandemia o in altri momenti e quindi abbiamo creato un avviso una call a cui hanno risposto più di 600 persone sono andati sold out subito tutti i turni in cui le persone si sono organizzate per dare una mano a ripulire le aree verdi e i parchi e lo hanno fatto coordinate dalle guardie ecologiche del verde le cosiddette GEV e grazie anche al coordinamento al supporto di AMSA che ha fornito i kit per la raccolta e a CSV che ha gestito tutta la parte organizzativa dei volontari siamo anche stati contattati da consolati per esempio ci ha scritto il consolato filippino ci ha chiesto di essere parte di questo evento anche la comunità cingalese e siamo stati contattati da tantissime aziende e imprese quindi nei prossimi giorni ci sarà ancora qualche turno extra che noi abbiamo definito così perché non volevamo davvero disperdere la disponibilità di nessuno anche le persone detenute nella casa di reclusione di Bollate hanno partecipato quindi davvero un grande momento per fare rete e per accomunarsi adesso stiamo lavorando a un momento pubblico vi do questa news a un piccolo momento pubblico in cui ci piacerebbe invitare tutte le persone che hanno partecipato per ringraziarle bene la situazione comunque come è ormai quindi siamo arrivati alla conclusione anche proprio fisica cioè non abbiamo più tanto a posto abbiamo sistemato tutto le piante sono tornate sono messe in sicurezza sì dal punto di vista della sicurezza siamo assolutamente arrivati diciamo all'ultima milestone certo i cittadini vedranno passeggiando e camminando per Milano ancora qualche cumulo qui e là ma dal punto di vista della sicurezza possiamo stare tranquilli bene 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 l'assessore Romani una delle prime battaglie posso chiamare battaglie che hai fatto in comune a parte la targa ma questa mi hai già parlato altre volte ma niente non ne parliamo oggi è stata quella di cercare di semplificare appunto anche qua parliamo di semplificazione delle procedure soprattutto per le associazioni quegli enti di volontariato ma anche semplici cittadini che volevano fare qualcosa di buono per la propria città per appunto fare delle piccole manifestazioni piccolissime piccoli interventi diffusi avete chiamati a carattere sociale giusto e da lì nascono i PIDS che ormai fanno un anno anche loro quasi è quasi il loro compleanno fa poco sì l'hanno compiuto a giugno in realtà esatto quindi quasi fanno un anno e mezzo come è andata che cosa sono e com'è andata sì allora le PIDS sono piccole iniziative diffuse a carattere socio-culturale sono in realtà un'iniziativa che nasce grazie a una lettera che abbiamo ricevuto da più di 150 associazioni che è arrivata come tutte le cose belle nel momento giusto perché noi in realtà come tu sai bene Fabio io vengo da un'esperienza di 5 anni municipio e in municipio questo tema si riproponeva ogni volta cioè il tema di dire per una piccola associazione ma com'è possibile che per organizzare un piccolo evento io debba essere come dire sottoposto allo stesso livello di burocrazia di un grande evento di un grande torneo quindi l'idea era rendiamo graduale la difficoltà per le associazioni di avere i permessi detta in maniera semplice e che se un'iniziativa è piccola la burocrazia deve essere poca se l'iniziativa è grande ci può stare soprattutto per motivi di sicurezza che le richieste siano un po' più numerose bolle che ci fa lì in piazza del Duomo che ci fa ballare ci sta che insomma stiamo un po' attenti che facciamo cose fatte bene che ci lavoriamo mesi e così via però bolle non può essere come dire paragonato al piccolo spettacolo agli amici degli scacchi non li conosco però vorremmo conoscerli e quindi abbiamo semplificato la richiesta per cui ad adesso in sole due settimane compilando un banalissimo file word che si trova su ciascuna pagina del municipio e inviando questo documento questa richiesta al municipio descrivendo l'iniziativa legando il documento di identità del responsabile si può fare un'occupazione di suolo pubblico in maniera molto rapida molto semplice senza pagare più la cauzione che era un altro elemento perché sai sì 500 euro però l'occupazione di suolo pubblico la pago però sì l'occupazione di suolo pubblico non la pago perché chi può richiedere la pizza sono persone che hanno già attivo un patto di collaborazione e che quindi non ce l'hanno e tutta un'altra serie di associazioni quindi soggetti che hanno già questa agevolazione quindi semplicemente come se ci mandassero diciamo una mail una PEC in cui ci dicono ciao comune di Milano ciao municipio 3 vorrei fare in quella piazza laboratorio di poesie per bambini quel pomeriggio il municipio controlla che non ci siano altre iniziative che sia tutto ok che l'iniziativa rispetti ovviamente i criteri di sicurezza e di rispetto del verde fatto questo passaggio autorizza l'iniziativa e l'iniziativa può svolgere hai parlato di verde perché è più veloce se si fa ad esempio in zone già adibite comunque c'è appunto parchi ovviamente che se chiedete di farle in mezzo a Corso Buenos Aires forse qualche problemino ci sarebbe soprattutto in questo momento infatti soprattutto in questo momento che anche lavori ma poi appunto ci sono le zone anche già riconosciute dai municipi come diciamo comode anche per fare iniziate tipo di iniziative giusto? esatto perché il primo anno abbiamo avuto più di 150 piccole iniziative diffuse e quindi diciamo che lì dove hanno funzionato abbiamo fleggato la piazza o lo spazio così che poi anche gli operatori dei municipi fossero più tranquilli nel dare il via libera l'anno successivo e quindi una semplificazione nella semplificazione e tutto questo Gaia Romani ci promette anche che non dovranno pagare neanche la CIA giusto? ecco la nota dolente e via volevo arrivare in conclusione dagli ultimi minuti a fargli la domanda più cattiva in assoluto riusciremo mai a fare qualcosa da quel punto di vista che so che è un altro grosso problema delle associazioni e che è un tema che non è direttamente vostro per questo è un problema grosso sì per noi questo effettivamente è un grande problema però io penso che come in tutte le cose l'unione fa la forza e questo piccolo grande passo avanti saltiamo la CIA tutti insieme però io penso che sicuramente sia fondamentale questo risultato è stato possibile perché noi come istituzioni lo volevamo c'era una volontà politica c'era un'esigenza delle associazioni che si erano messe in rete c'era una richiesta una collaborazione da parte dei municipi e di tutti i miei colleghi ovviamente non c'è stato un collega dall'assessore alla cultura all'assessore al commercio al SUEV che abbiano detto no non facciamo questa cosa quindi sai come tutte le grandi cose servono tutte le condizioni noi sicuramente anche su questo ci siamo ci saremo perfetto allora Gaia io ti ringrazio tantissimo per essere qui questa mattina con noi come tutte le cose belle quando ci si diverte siamo giocati alla fine incredibile avevi qualcos'altro segnato qualche altra domanda da fare no abbiamo tempo abbiamo fatto tutto no non abbiamo tempo quindi devi rispondere no è una domanda retorica devi rispondere no grazie grazie mille dell'invito è sempre un grande onore grazie mille buona giornata e buon lavoro va bene allora grazie mille ancora Gaia Romani ritroverete l'intervista ovviamente sul nostro sito potete seguire tranquillamente sia il sito di Milano News che di Cristal Radio troverete appunto tutta l'intervista all'assessore Romani e allora come sempre diamo l'appuntamento quando? l'appuntamento è per domani stessa ora dalle 7 alle 9 in diretta su Cristal Radio 96.2 in FM da Plus sul sito di Cristal Radio sull'app di Cristal Radio sul sito di Milano News se ci volete anche vedere a vostro rischio e pericolo e anche se ci volete rivedere riascoltare a vostro ririschio a vostro doppio rischio e pericolo grazie mille davvero per tutta la vostra compagnia e tutti i messaggi che avete scritto al 331-78-53555 e ci vediamo domani e grazie a te Lorenzo per la compagnia grazie a te Fabio a domani a domani ciao 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 ciao